Ciao sono Antonio imprenditore digitale e in questo video andiamo a vedere come trovare dei prodotti gratis Sì avete capito bene ci sono tanti prodotti che vengono dati in regalo che quindi possiamo andare ad ottenere per poi o usarli per noi oppure per rivenderli quindi nel mio caso chiaramente questo è utile per poter rivendere dei prodotti senza dover avere il costo di acquisizione del prodotto perché a tutti gli effetti non si paga nulla per avere quel determinato prodotto quindi è una cosa che secondo me potrebbe interessare a molti quindi vediamo subito quali sono questi metodi allora il primo fra tutti è quello che riguarda Facebook Marketplace quindi uno va nel marketplace di Facebook quindi è molto semplice andarci insomma è questo nella sezione qui sopra oppure si trova appena uno va nella home di Facebook nella sezione quella a sinistra comunque una volta che uno fa l'accesso deve ovviamente mettere il filtro di dove abita quindi più o meno insomma mette una distanza chilometrica di dove vuole vedere gli annunci relativi ai prodotti in regalo quindi nel mio caso metto Palermo perché abito qui poi ovviamente se uno abita in un altro luogo metterà il luogo di riferimento perché comunque sono degli oggetti da ricevere poi con consegna a mano quindi di solito non fanno spedizioni salvo rari casi le persone specialmente insomma con oggetti in regalo difficilmente vorranno fare spedizioni e quindi qui poi uno va a cercare la parola regalo oppure ancora gratis eccetera eccetera quindi se io vado a cercare qui regalo mi compariranno tutti gli annunci di chi va a vendere qualcosa in maniera completamente gratuita appunto il regalo quindi uno va ad entrare dentro l'annuncio specifico e se è un qualcosa di facilmente rivendibile se è un qualcosa che vi interessa allora potete accordarvi con la persona per ricevere proprio quel determinato prodotto chiaramente molti saranno prodotti anche molto ingombranti che magari insomma potrebbero non interessarvi però comunque andando ad analizzare vari tipi di prodotti se ne trovano anche di tanti interessanti comunque poi vedremo anche un altro metodo ancora che appunto magari potrebbe fare al caso vostro comunque qui appunto ci sono vari tipi di annunci spesso legati appunto a cucine, divani e cose di questo tipo poi si può anche cercare come dicevo qui la parola gratis poi appunto a seconda anche della città cambieranno gli annunci per esempio questo dice vabbè vendo Nintendo 3DS mette free ma in realtà non sarà gratuito poi metterà un prezzo però c'è chi fa anche queste cose qui quindi state attenti se uno dice vendo evidentemente lo vuole vendere non lo vuole dare gratuitamente però ci sono tante persone che si vogliono sbarazzare di determinati prodotti e quindi proprio li regalano perché non gli interessa andarci a guadagnare qualcosa poi un'altra cosa che si può fare è quella di andare sempre su Facebook a cercare gruppi dedicati proprio a questo al regalo di qualcosa e quindi per esempio ci sono tanti gruppi che insomma si chiamano con le parole a me non serve te lo regalo e poi magari con la specifica della città di riferimento quindi in questo caso appunto mi compaiono cercando la parola tutti i vari gruppi relativi a Palermo poi possono esserci anche diciamo delle differenze magari c'è il gruppo che si chiama a me non serve più allora te lo regalo eccetera eccetera comunque più o meno basta che cercate questa parola qui e troverete tanti gruppi in merito vi iscrivete e ci saranno persone che pubblicheranno dei post di quello che vanno a regalare e quindi se vi interessa potete contattare la persona e chiedere di insomma vedervi per fare questo tipo di insomma scambio insomma direttamente lui fa lo scambio a voi di un qualcosa che non vuole più poi un'altra cosa che si può fare è andare su subito andate a selezionare una determinata categoria che vi interessa per esempio console e videogiochi poi mettete magari anche qui la località perché anche in questo caso di solito si fa con consegne a mano però in questo caso metterò per questo esempio tutta Italia e andiamo a fare la ricerca e poi possiamo andare a mettere il filtro specifico quindi possiamo andare a mettere soltanto come tipo di annuncio in regalo e quindi selezionando questo ci farà vedere che ci sono ben 64 risultati in tutta Italia in questo caso di persone che insomma regalano un qualcosa poi al solito magari c'è qualcuno che mette il regalo ma in realtà lo vuole vendere però spesso in realtà su subito è più facile che sono effettivamente delle persone che vogliono regalare quel prodotto perché proprio lo mettono come tipo di annuncio in regalo perché altrimenti insomma avrebbe poco senso fare una cosa diversa qui ci sono per esempio tanti giochi per la Playstation 2 forse anche per la PSP qui non si capisce dal titolo che magari possono essere interessanti magari vi interessano magari li volete giocare o magari volete proprio andarli a rivendere io vi garantisco che ci sono appunto tante persone che acquistano giochi anche di console molto vecchie tuttora per esempio della Playstation 2 anche a prezzi insomma abbastanza buoni quindi assolutamente può essere anche questo un qualcosa di interessante oppure uno va a selezionare un'altra categoria tipo accessori per animali al solito va a fare la ricerca e poi mette in regalo e quindi compaiono 374 risultati e così via quindi uno va a vedere l'annuncio che gli interessa va a contattare la persona e poi vi organizzate per ricevere quel prodotto gratis quindi totalmente in regalo quindi spero che questo video possa tornarvi utile trovate anche qui sotto il mio percorso di formazione Progetto Freedom che vi spiega come vendere online anche prodotti che sono in regalo oppure tramite fornitori quindi vi viene spiegato come venderli su Ebay come in questo caso che ovviamente è molto utile se ricevete un qualcosa in regalo poi volete far trovare quel prodotto per rivenderlo magari tramite la piattaforma di Ebay così da non dover spendere neanche soldi in pubblicità e così via senza dover avere un vostro sito quindi un metodo molto semplice ma che si deve fare anche in un modo diciamo specifico per farsi trovare perché se uno pubblica un annuncio così a caso potrebbe vendere come no invece nel corso chiaramente vi viene spiegato come più facilmente potete trovare clientela anche su queste piattaforme qui quindi scrivendo le cose nel giusto modo con il giusto titolo, descrizione nel giusto fotoprodotto scegliere il giusto prezzo vedere la competizione vedere che cosa vende, che cosa no eccetera eccetera così come vi viene spiegato come andare a vendere con un vostro sito web e in quel caso insomma può essere un metodo anche più interessante per certi punti di vista uno crea un vero e proprio brand un proprio negozio online e poi anche ai propri clienti che non sono clienti di ebay ma sono clienti vostri a tutti gli effetti e potete vendergli poi tante cose insomma man mano una volta che avete insomma i loro contatti la loro mail uno ci propone varie cose insomma poi ci sono vari modi anche di andare a guadagnare sempre di più quindi tutte cose che spiego nel dettaglio nel corso senza dover avere un magazzino senza dover appunto andare senza dover per forza insomma prendere anche prodotti in regalo come in questo caso però può essere un buon metodo per partire vendendo un qualcosa senza avere diciamo il costo del prodotto e quindi avere praticamente tutto margine netto di guadagno o quasi e quindi nel link in descrizione trovate il mio percorso di formazione poi una volta che accedete al sito capite bene che cosa consiste e poi se vi interessa c'è il pulsante verde per poter fare l'accesso e quindi così potrete potrete vedere tutte le varie video lezioni che vi spiegano ogni cosa in maniera pratica passo dopo passo poi se avete bisogno di contattarmi una volta che fate accesso al corso perché avete bisogno d'aiuto per qualcosa per configurare insomma determinate cose magari non avete ben capito dalle lezioni io offro anche il supporto una volta che fate l'accesso invece se ancora non avete fatto l'accesso avete qualche domanda in più da pormi sempre ci sono i miei contatti e tranquillamente io vi rispondo così se avete delle domande prima di accedere al corso sono disponibili e io vi rispondo senza problemi quindi spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo con questo video potete lasciarmi un mi piace se vi è piaciuto il video che ho fatto oggi e anche potete iscrivervi al canale per vedere i miei successivi caricamenti quindi detto questo ci si vede come sempre al prossimo video ciao a tutti